Apre oggi a Parma il gota dell'antico Ariato, mobili, sculture, dipinti ma anche gioielli, libri, argenti e porcellane, oggetti di altissimo pregio provenienti da oltre 70 gallerie internazionali di alta gamma. Non solo un museo temporaneo ma un vero e proprio mercato, punto di riferimento per collezionisti, investitori, studiosi o semplici appassionati. Gota resterà aperto al pubblico presso il padiglione 3 delle fiere di Parma fino al 25 novembre.